Lucia, è il mese di ottobre e fa un caldo tremendo e tu nemmeno ti fermi. Pietro, ma noi dobbiamo stare sempre in movimento per fare in modo che gli altri si fermino a disegnare. A proposito del concorso di disegno mi fermo a... Esatto Pietro, l'unico concorso in cui non è richiesto l'abilitare il disegno. Cioè l'unico concorso di disegno in cui uno non ha da sapere disegna. No Pietro, allora l'importante è esprimere il proprio concetto, il proprio pensiero, la propria sensibilità. Per esempio, uno può fare anche disegnare un fiorino semplice e scrivere vorrei un mondo fiorito. Ecco, noi è questo quello che stiamo cercando Pietro e tutti coloro che parteciperanno. Ma tip, sono arrivati dei disegni o facciamo sulle chiacchiere? Non è bene, sono arrivati Pietro, guarda, sono arrivati già delle busse. Anzi, vogliamo l'occasione per dire dove vanno spediti i disegni chiusi nella bussa in Via 20 Miglia, numero 19, 84129 Salerno, presso la Casa dei Fili d'Erba. Entro il 20 novembre. Abbiamo tanto tempo, però noi aspettiamo altre busse che arrivino.